Stavamo dicendo quanto usiamo il cellulare a scuola, abbiamo visto da questi dati che evidentemente il cellulare fa parte della vita di tutti i giorni dei ragazzi, anche inconsapevolmente, a insaputa dei genitori a volte, eppure i professori negli ultimi anni non hanno fatto che parlare dell'uso dei tablet del cellulare a scuola. Tu mi hai detto una cosa Dianora che mi ha colpito tantissimo, per salvare il digitale non dobbiamo più parlare di digitale. Adesso ce la spieghi? Non funziona? Allora, naturalmente questi sono una piccolissima parte dei dati della ricerca che noi abbiamo, perché poi abbiamo analizzato i videogiochi, abbiamo analizzato il benessere dei docenti, degli studenti, tantissime altre cose che man mano pubblicheremo e daremo alla rete. Quindi li commenteremo. Non era possibile in questa giornata fare in un'ora, voi capite, la sintesi di un lavoro così incredibilmente vasto. Credete ci abbiamo buttato miliardi di ore, noi e i docenti che con noi hanno lavorato in questo lavoro. Allora, che cosa io posso dirvi del lavoro svolto dai docenti? Perché abbiamo avuto questi risultati? Apparentemente negativi, ma non sono negativi. Semplicemente abbiamo avuto dei valori molto positivi laddove i docenti si sono veramente messi in gioco in alcune scuole, dove noi siamo andati a controllare proprio uno per uno, in quelle scuole dove il docente era motivato, sentiva per la prima volta di fare qualcosa di nuovo. Soltanto il 24% conosceva lo storytelling o il digital storytelling. Noi li abbiamo accompagnati con dei webinar ogni 15 giorni, li abbiamo fatto le web conference, si sono collegati con noi costantemente, abbiamo dato tutte le indicazioni di lavoro, abbiamo aperto una piattaforma dove abbiamo messo tutto il materiale, l'abbiamo condiviso e loro potevano mettere e porci domande. Quindi è stato un accompagnamento direi quotidiano nel rispondere anche a tutte le richieste dei docenti. Ma voi capite che i docenti non erano, come dire, non erano in gran parte pronti ad affrontare un modo di fare scuola diverso. E laddove c'è stato più il mettersi in gioco da parte dei docenti, i risultati sono stati assolutamente migliori. Quando il docente l'ha vissuto come qualcosa che lo affaticava necessariamente perché era tutto concentrato a come dover svolgere un certo tipo di lavoro. E quindi nonostante noi avessimo detto il fulcro è lasciateli lavorare, lasciateli fare i veri protagonisti, ascoltate i ragazzi, fate scegliere ai ragazzi il tipo di prodotto per descrivere il loro processo di apprendimento, fateli aggregare come meglio desiderano, fate tutte le metodologie didattiche che i ragazzi preferiscono, ascoltateli, nonostante questo l'84% dei docenti ci hanno dato le indicazioni che il prodotto, il processo, i software, le tecnologie, il modo del setting d'aula, il modo di scegliere la metodologia del momento l'hanno fatto i docenti. Ecco allora la chiave di lettura, la chiave di lettura è qui, non è la tecnologia che ha motivato i ragazzi, non è l'uso dello strumento del digitale che fa trasformare l'apprendimento dei ragazzi, ma è il modo con cui i docenti si sono relazionati a loro, è il modo con cui quelli che hanno avuto maggiori risultati sono quelli che hanno lasciato più libertà ai ragazzi, anche di sbagliare, ma viva Dio certamente sì, che magari hanno fatto il prodotto non più bello, ma non importa. Allora, per i ragazzi, quando io ho detto bisogna dimenticarsi del digitale per salvare il digitale, se noi continuiamo a parlare di tecnologia e ci concentriamo noi adulti, questa è la chiave di lettura, noi adulti, io ho insegnato 42 anni e ricordo i dieci anni che ho portato i tablet in Italia, voglio dire nelle classi, l'ho fatto io per prima, quindi lo so bene cosa vuol dire la paura di far brutta figura di fronte ai miei studenti, primo anno, ho avuto questa paura, di non essere in grado di guidare i miei studenti come io volevo o dire loro che conoscevano meglio la tecnologia di me. Dopodiché ho capito che non era proprio il caso, perché tanto lo sapevano meglio, sicuramente loro sono più bravi di noi. Allora, nel momento in cui il docente riesce a distaccarsi dall'idea del tecnologia a tutti i costi, quel tipo di tecnologia perché magari sono stata didacta e ho visto le aziende che mi hanno presentato l'ultimo prodotto, che bello, che bello, lo propongo ai miei studenti, ai miei studenti magari non glielo importa niente di quel prodotto lì, ma io docente, siccome l'ho visto, siccome è bello, magari ci ho fatto un corso, quello gli propongo e gli studenti lo vivono sempre con qualcosa che mi dà il docente. Allora, questa è la chiave di lettura, noi dobbiamo concentrarci sul nuovo modo di fare scuola, noi dobbiamo riprendere in mano la didattica. Ci sono dei docenti che per fare brainstorming mi hanno scritto che hanno fatto il debate, la Flipper Classroom, il Circle Time, cioè mi hanno segnalato dieci metodologie. Le ho scritte tutte e così sicuramente risulto brava. Scambiare il debate con il dibattito, scambiare il cooperative learning, però poi li ho lasciati liberi di aggregarsi come volevano, non gli davo i ruoli, non gli facevo niente. No, il cooperative learning è alto, quindi confondere la laboratorietà con il cooperative learning. Cioè, attenzione, concentrarci sulla metodologia in quanto tale, sullo strumento a tutti i costi, coding, robotica, app, software, piattaforme, più ce ne ho, ci sono dei docenti che mi hanno scritto una marea di app, software, che io non li conosco, quindi le ho guardate come un marziano, e ho detto ma come è fatto a utilizzare tutti questi strumenti? Ma usa anche la carta e la penna, ma usate anche il libro di carta, ma fate in modo che i ragazzi per loro, e questo è chiarissimo da questa ricerca, per i ragazzi la tecnologia è completamente trasparente. Per loro usare un tablet, uno smartphone, una tecnologia qualsiasi è come usare la carta e la penna. Non si rendono conto dei tempi di utilizzo, non si rendono conto del perché mi stai facendo queste domande, è come se a me chiedessero quante volte ti sei pulita gli occhiali stamattina, e che ne so, non ci ho posto nessuna attenzione. Per loro è la stessa identica cosa, è il docente che è preoccupato di focalizzare il proprio lavoro utilizzando tecnologie, metodologie diverse, che sono poi per di vista il progetto nel suo complesso. Allora finché noi saremo concentrati sulla metodologia o sulla tecnologia, non riusciremo a recuperare l'umano di questi ragazzi che sono completamente diversi da quelli che avevamo fino a qualche anno fa. Le avete visti i risultati? Questi ragazzi vivono nell'immaterialità, vivono con relazioni diverse, vivono relazionandosi in gruppi attraverso la rete. Hanno cambiato, il professor Lancini oggi pomeriggio ve lo dirà anche, e poi a parte Daniela ovviamente, ma hanno cambiato tutti i rapporti con le famiglie. Avete visto le famiglie come interagiscono con i propri figli? I genitori non si rendono neanche conto, la domanda è stata poco focalizzata, ma per me è importantissima, ma tu quanto tempo passi con il cellulare in mano davanti a tuo figlio? Guardate che le risposte sono alte. Quante volte tuo figlio ti chiede, ma lascia perdere, cioè ti accorgi che il rapporto di dialogo diventa negativo perché io genitore sono con il cellulare in mano? Allora se questa è la generazione dei genitori, ma io per prima, perché io sono la prima ad essere dipendente da internet, o dal cellulare, se i genitori sono così, i figli sono frutti di questa generazione. E quando arrivano a scuola, noi ci troviamo dei ragazzi diversi, abituati a relazionarsi in modo diverso, e vogliono semplicemente riacquistare una relazione umana, che vogliono essere ascoltati. I migliori risultati di questa ricerca li abbiamo avuti quando c'è stato il rapporto uno a uno, quando i docenti li hanno veramente accompagnati, quando i docenti si sono messi in gioco con loro. Questo è quello che fa scattare l'elemento positivo, non è la tecnologia. Quindi per salvare la tecnologia, in questo momento, dimentichiamola, riprendiamoci in mano l'umano, i ragazzi la tecnologia c'è, ma c'è anche per noi, è pervasiva, è impossibile pensare a qualcosa che non preveda il mondo dell'immaterialità o del digitale, ma il modo con cui dobbiamo recuperare le conoscenze, viva Dio, le conoscenze e le competenze di questi ragazzi deve avvenire in un modo diverso. Io l'ho detto al viceministro, a quel colloquio che ho fatto con lei, gli ho detto o il ministero ci dà delle linee guida precise, ci dà delle indicazioni precise, perché non si può pretendere che il docente debba correre dietro le competenze digitali, vada dalle aziende e che comprano tutti gli strumenti ultimi, poi non li so usare, mi devono dire come caspiterina li devo usare, i corsi agli studenti li facciamo in orario extrascolastico con i PON magari fatto da esperti esterni, io devo svolgere comunque il mio programma tradizionale, devo fare le mie interrogazioni, devo fare il mio compito in classe, devo valutare le mie conoscenze, però mi si chiede tutt'altro, allora gli ho detto la schizofrenia non è proprio dei docenti poveracci, dato che sono stata docente 42 anni, questo è ciò che viene fuori scientificamente da questa ricerca, vi daremo e continueremo ad elaborare questi dati per consegnarvi e lavoreremo insieme, ci rifletteremo insieme, ma i risultati comunque sono questi. Poi la professoressa Lucangeli ha fatto altri studi. risultati fondamentali che dicevamo vanno ad incidere profondamente anche sul modo in cui i ragazzi interagiscono, sul modo in cui imparano, sul modo in cui apprendono tutti i giorni. Ecco, dicevamo, la dottoressa Lucangeli, secondo me il suo contributo... Scusa un attimo soltanto, scusate, l'ultima cosa, i genitori dicono che i figli non hanno problemi a leggere, a scrivere, a far di conto e a fare calcoli complessi. Ragazzi, o noi abbiamo preso i 1500 geni in Italia oppure qualche riflessione la dovremmo fare. Certo, la riflessione è che, come dicevamo prima, non c'è consapevolezza alcuna da parte dei genitori ed è per questo che la comunità degli insegnanti a maggior ragione secondo me deve essere coinvolta in questo tipo di riflessione. grazie a tutti.